E siamo allo sport e calcio, parliamo del Pescara, ha preso il portiere Manuel Gasparini, classe 2002 in prestito dal Potenza Scuola Udinese, ma si fa male Alessandro Plizzari, edema al polpaccio destro per il portiere Biancazzurro che rischia concretamente di saltare la sfida con la Juventus Under 23 in programma domenica alle 14 sul neutro di Alessandria. L'infortunio di Plizzari risale a due giorni fa, nel primo pomeriggio l'ex Milan si è sottoposto ai rituali, esami strumentali che hanno evidenziato un edema al polpaccio destro, Plizzari sarà rivalutato, assai probabile, il debutto del 21enne Manuel Gasparini preso proprio oggi in prestito dalla Potenza, domani il primo allenamento per l'estremo difensore Scuola Udinese, appunto cresciuto nel club friulano. Gasparini ha esordito nel massimo campionato del 23 maggio 2021, subentrando a due minuti dal termine del match inter-udinese a Juan Musso, l'allenatore dei friulani era Luca Gotti. La stagione successiva sei presenze in Cicol Legnago, dall'estate 2022 al Potenza per un totale di 56 presenze, di cui 14 nell'attuale campionato. Detto di Plizzari, le notizie di oggi della doppia seduta che si è svolta naturalmente a Silvi Marina, Franchini e a Cornero hanno svolto lavoro differenziato, domani forse l'ex Padova in gruppo, per entrambi con vocazione ancora in dubbio.